Io per uno sto bene, io mi sento benissimo, mi sembra anche che gli altri stanno bene. Ovviamente una settimana così normale, senza impegni fra settimanale, ci farà sicuramente bene. Speriamo di recuperare qualcuno, adesso dobbiamo cominciare a fare più punti nel campionato. Lo sappiamo tutti, non si può nascondere, a vincere contro l'Atalanta diventa fondamentale per noi. Di solito non guardo più di tanto la classifica, però guardandolo un po' anche se vedi che siamo tutti lì, non è che siamo tanti punti indietro. È un campionato molto, a parte l'Inter, è un campionato molto equilibrato. Questa è una cosa positiva comunque, noi siamo lì e dipende tutto da noi. Dobbiamo cominciare a fare punti, però... Secondo me, non mi preoccupa più di tanto che siamo un po' più in bassi. Dopo due sconfitte c'è tanta pressione su di noi, adesso che noi dobbiamo vincere per forza. Se la partita si mette subito male, diventa molto difficile poi. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita e basta, è tutto lì. Mettere l'accressione nel campo, far vedere che giochiamo in casa, sin dall'inizio, poi adesso arriva da sé.